Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube, Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme i cantucci al limone, dei biscottini deliziosi, profumatissimi, semplici da realizzare e perfetti per essere gustati a fine pasto o a merenda con una buona tazza di tè. Ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti che ci occorrono per realizzare questi splendidi biscottini. Partiamo dalla farina. Io sto utilizzando una farina zero ma anche una farina 00 andrà benissimo. Utilizzeremo poi del lievito vanigliato, succo di limone, zeste di limone biologico ovviamente, olio di semi di mais, due uova e zucchero. Per prima cosa unisco il lievito alla farina e miscelo. Crea una fontana verso lo zucchero e ora metto le uova. l'olio, il succo di limone e lavoro con la spatola. Comincia a raccogliere lo zucchero. E ora impasto. Prima di incorporare tutta la farina aggiungo le scorsette biologiche. Lasciamo la spadola e continuiamo ad impastare a mano. L'impasto è soffice, soffice. Adesso lo trasferiamo sul tavolo di lavoro dove spolveriamo un po' di farina. Grazie. Grazie. A questo punto metto ancora farina da una parte perché dobbiamo cominciare a ritagliare l'impasto per formare i filoncini. prendo una teglia foderata con carta da forno e la metto vicino a me. e a questo punto uno a uno formo i filoncini e li metto in teglia. il primo è pronto. Anche l'ultimo filoncino da mettere in teglia è pronto. Come vedete i filoncini sono ben distanziati. Ora continuo e preparo gli altri per la seconda teglia. Una volta che i nostri filoncini sono in teglia abbiamo bisogno di un uovo a cui ho aggiunto un cucchiaio di latte e della granella di zucchero. batto l'uovo con il latte e con un pennellino spennendo tutta la superficie dei miei filoncini. e ora un pochino di granella di zucchero. i nostri cantuccini al limone saranno davvero dei biscottini eleganti e raffinati. e ora siamo pronti per il forno. Io ho pre riscaldato il mio forno in modalità ventilata a 175 gradi e lascerò cuocere i cantucci per i primi 15 minuti. Ecco i cantucci appena sfornati. Ora attendo 5 minuti e poi comincio a tagliarli. I cantucci sono verbi e ora iniziamo a tagliarli. e ora iniziamo a tagliarli. Vedete come sono all'interno? Sono già cotti. Ora li passiamo in forno una volta che li avremo tagliati tutti soltanto per qualche minuto. e ora iniziamo a tagliarli. Ho riunito i cantucci in una stessa teglia e ora dobbiamo rinfornarli per 5 minuti sempre a 175 gradi in modalità ventilata. Ecco qui i cantucci pronti per essere gustati. Guardate che bel punto di doratura che abbiamo ottenuto e vorrei che foste qui con me per farvi sentire questo profumo inebriante. Ora quando saranno tiepili preparerò il vassoio. Il mio vassoio è pronto. Questi cantucci sono davvero straordinari. Ora ne apriamo uno. Hanno la croccantezza giusta, non eccessiva, un profumo meraviglioso. Insomma sono davvero da provare. Bene anche per oggi è tutto. Io spero che i miei cantucci al limone siano stati di vostro gradimento. E se così sarà, attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti. A condividere le mie video ricerche sui vostri social. E cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.